Arbitro della gara è il signor Stato di Firenze Settignanese, il collettore è il signor Donati con il numero 12, 5 rivi, 13 marcati, 14 rivi, 15 rama con il numero 1 Martellù, 2 borghini, 3 borghini, 4 rivi, 5 schiavone 6 rivi, 7 rivi, 8 corretti, 9 massa, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e mi ha sorpreso grazie